tunnel di corso grosseto si va avanti approvati i conti 2015 assistenza le novità del decreto su ilea in apertura dalla seduta del 13 settembre su richiesta del partito democratico l'assessore trasporti ha svolto un'informativa sulla realizzazione del tunnel di corso grosseto a turino in mattinata l'assemblea ha approvato il rendiconto di bilancio 2015 della regione piemonte e un provvedimento sui piani di rientro dal disavanzo finanziario nella pausa dei lavori sono state ricevute le delegazioni del consorzio di garanzia eurofidi e dei lavoratori esternalizzati di edisu ente per il diritto allo studio universitario nel pomeriggio l'assessore alla sanità ha svolto una comunicazione sul nuovo decreto che fissa i livelli essenziali di assistenza la seduta è proseguita con la discussione generale sulla nuova legge su arpa l'agenzia regionale per la protezione ambientale in copertina il sottopasso di corso grosseto a torino produrrà benefici all'intero sistema della viabilità torinese modificare il progetto oggi significerebbe perdere i finanziamenti e dover pagare penali lo ha ribadito l'assessore trasporti francesco balocco durante la comunicazione in aula richiesta dal partito democratico a seguito dei dubbi espressi dalla sindaca di torino il progetto esecutivo ha proseguito l'assessore è già completato all 80 per cento e dovrà essere concluso entro novembre durante il dibattito il movimento 5 stelle ha ribadito la propria contrarietà all'opera favorevoli il partito democratico e forza italia nei prossimi due anni la regione riuscirà a garantire l'attuale livello di spesa su politiche sociali istruzione innovazione diritto allo studio e sostegno allo sviluppo senza ricorrere a nuova tassazione e quanto emerge dal rendiconto 2015 dell'ente presentato dalla giunta è approvato a maggioranza il 13 settembre il documento prevede un avanzo vincolato di 431 milioni di euro in grado di coprire le quote di disavanzo finanziario previste per gli anni 2016 2018 pari a 126 milioni annui critiche le opposizioni che hanno lamentato l'assenza di programmazione e indirittura di arrivo a roma il decreto che ridefinisce i lea i livelli essenziali di assistenza cioè le attività i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini del servizio sanitario nazionale le principali novità sono state illustrate in aula dell'assessore alla sanità il piano prevede la verifica delle uniformità dei lea in tutte le regioni ridefinisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare e di quelle croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione e innova i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica 800 e milioni di euro stanziati dalla legge di stabilità nel corso della prima seduta d'aula dopo la pausa estiva l'assemblea piemontese ha approvato all'unanimità la delibera che ha stanziato 500 mila euro in favore delle popolazioni del centro italia colpite dal sisma dello scorso 24 agosto il consiglio regionale ha istituito nei giorni scorsi un conto corrente postale per rendere possibile un gesto concreto a favore di chi è rimasto senza casa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti